Un buon sabato a tutti, ciao a tutti. Prossima settimana nuove perturbazioni in arrivo e saranno anche molto intense sul nord-ovest e alta Toscana, tra martedì e mercoledì, come mostra l'immagine della pressione atmosferica, guardate. Si vede chiaramente la bassa pressione che si avvicina sul nord-ovest, portando un maltempo. Restate sempre aggiornati. Ciao. Grazie.